Edax Rerum, capitolo 20, post fata. Harry guardò in alto. La rampa di scale che partiva dal salotto conduceva a un ballatoio da cui si accedeva al bagno, alla cameretta di Molly e a un'altra stanza che non aveva mai visto. La voce di Audrey proveniva dalla seconda. La cena è quasi pronta, continuò, accompagnata da un rumore di passi e cose spostate. Viridios mi ha tenuta in sala fino a mezz'ora fa, e siccome sono arrivata tardi, mia madre mi ha rimproverata fino a dieci minuti fa, e giustamente tua figlia ha aspettato che fossimo sole per commettere un peccato contro gli dèi e la natura nel pannolino. Godric, assistimi, esalò Percy, passandosi una mano sul viso. «Amore, abbiamo gente!» I rumori nella cameretta si fermarono, e nella cornice della porta apparve la testa di Audrey. «Gente? Quale gente? Oh, Harry!» Rientrò nella stanza per uscirne poco dopo. Ci mise giusto una manciata di secondi a scendere le scale, ma quel breve lasso di tempo bastò a cancellare qualsiasi preoccupazione dalla mente di Harry. «Perché? Perché si era sentito così angosciato all'idea di rivederla? Non ce n'era motivo. Era così bello trovarsela davanti davvero, non un cadavere sfigurato sul tavolo degli inusuali, né un travestimento dei divoratori, ma davvero, davvero lei, corpo e anima e cervello e tutto il resto. L'aveva seppellita solo poche ore prima. E adesso... adesso eccola! «Che bello vederti!» Audrey si avvicinò, elargendogli uno dei suoi larghi sorrisi. «Come mai da queste parti? Ci sono novità sul caso? Ti serve un altro consulto?» «Harry è qui per...» Percy non fece in tempo a dire cosa ci facesseli. Il corpo di Harry si mosse in maniera automatica, scollegata dalla sua volontà, colmando la distanza tra sé e Audrey per catturarla in un abbraccio ancora più forte di quello che aveva dato al suo cognato poco prima. Non era la prima volta che si salutavano così, ma in quel momento lei reagì in maniera identica al marito, irrigidendosi tutta. «Harry, non che mi lamenti, ma a cosa lo debbo?» «Mi sei mancata», mormorò contro la sua spalla. Era la risposta più cretina e in assoluto da dare, e lo sapeva, ma era anche l'unica che poteva pronunciare senza scoppiare in lacrime, come un povero imbecille. «Credevo che non ti avrei mai più rivista, che non ti avrei mai più parlato. Invece sei qui. Ce l'ho fatta». La sentì ridacchiare e ammorbidirsi tra le sue braccia. «In effetti non ci vediamo addirittura dall'altro ieri», risposerei ricambiando la stretta. Quando però si staccò e alzò lo sguardo su di lui. «Ti avevano bruciato a mezzo viso, non eri più tu, mi dispiace, mi dispiace», sussultò, e divenne seria. «Che è successo?» gli chiese, scrutandolo preoccupata. «Hai una faccia... strana». Harry si sentì avvampare. «Nulla, sono solo un po' stanco, ecco», sorrise, invano. I suoi occhi indagatori continuavano a vagare su di lui, come in cerca di qualcosa. «Stanotte Harry resterà qui», intervenne di nuovo Percy, per poi spiegarle la situazione senza fare accenni a quanto avevano scoperto quella sera. Mentre lui parlava, Harry non staccò gli occhi di dosso da Audrey neppure per un istante. La sua mimica facciale, la sua voce, il modo in cui si spostava i capelli o incrociava le braccia. Ogni singolo dettaglio di lei gli pungeva forte il cuore, ma era un dolore dolce. Dunque era così che ci si sentiva, rivedere qualcuno dopo averlo pianto come morto? «Era per questo che i grandi maghi prima di lui si erano dannati l'esistenza in cerca di un sistema per richiamare i loro cari dall'aldilà?» La mente di Harry vagò su quel pensiero. «Chissà cosa avrebbe provato se al posto di Audrey ci fosse stato Sirius, o Silente, o Fred, Remus, Tonks, suo padre, sua madre». «Potevate avvertirmi in anticipo, avrei organizzato una cena migliore?» Audrey sospirò e crollò il capo. «Beh, allora è meglio che mi sbrighi a finire. Pers, ti occupi tu di Molly, per favore? Harry, dammi una mano in cucina, così facciamo prima». «Amore, sai che è maleducazione schiavizzare gli ospiti?» Percy piazzò una mano in mezzo alla schiena di Harry e lo sospinse verso le scale. «Andiamo, ti porto a salutare tua nipote». Per loro grande fortuna, Audrey aveva già ripulito ogni traccia del peccato contro gli dèi e la natura, costituito dall'ultimo pannolino di Molly. Quando entrarono nella cameretta, la bambina se ne stava beata nel lettino circondata dai suoi peluche, uno dei quali, notò Harry, era lo stesso snaso di James. «Ma è cresciuta tantissimo!» esclamò, guadagnandosi un raro ed enorme sorriso da Percy. «Quando era stata l'ultima volta che l'aveva vista?» La ricordava piccolissima e incapace di stare seduta da sola, ora invece si alzava in piedi, aggrappandosi alle sbarre del lettino e quasi saltellava la prospettiva di essere presa in braccio, mentre emetteva sillabe incomprensibili. La socialità era tutta della madre. «Ehi là! Guarda chi è venuto a trovarti!» Percy si sfilò gli occhiali prima di sollevarla e stamparle un bacio sulla guancia, facendola ridere. «Vuoi salutare zio Harry?» Gliela mise in braccio e subito Molly gli tirò via le lenti, proprio come faceva James, una visione del futuro attraverso la mente di Harry, suo figlio e sua nipote che si contendevano il boccino durante una partita a Quidditch. La prospettiva non sembrava poi così assurda. «E dire che ti avremmo persa!» «Ti somiglia un sacco!» mentì. Percy sbuffò col naso e passò le dita tra i riccioli rosso fiamma di Molly, l'unico tratto che sembrava aver ereditato da lui. «Ma che è! È identica a Audrey, per fortuna!» «Una Audrey rossa!» rialzò lo sguardo su Percy e sentì una stretta al cuore nel ritrovare sul suo viso la stessa espressione distante che aveva al funerale. «Non le succederà niente, Percy, te lo prometto!» mormorò. L'altro non rispose. Continuò ad accarezzare la testolina della figlia, poi borbottò qualcosa sull'andare ad aiutare Audrey e lasciò Harry da solo con sua nipote. Per la mezz'ora successiva i due giocarono assieme nel salotto, con in sottofondo i rumori della cucina e le voci basse di Percy e Audrey che conversavano tra loro. Molly si dimostrò una bambina assolutamente adorabile, nonché dotata già di un'ostinazione dal grifondoro nella maniera in cui, con le sue gambette che cominciavano appena a sostenerla, cercava di tenersi in piedi appigliandosi a qualunque oggetto a disposizione. Ogni volta che perdeva l'equilibrio, ricadeva sul sedere con un tonfo, solo per ridacchiare e raddoppiare gli sforzi per alzarsi. Harry si ritrovò a pensare che avrebbe di sicuro passato più tempo con lei, se quella notte le cose fossero andate secondo i piani. Stando alla ricostruzione che Archer aveva fatto con Percy e che lui aveva letto nei giorni successivi all'arresto di Varnos, la famiglia aveva cenato e si era coricata alla solita ora. Poco prima delle tre di notte, Percy si era alzato per controllare Molly e aveva trovato Audrey nello studio, come spesso accadeva. Avevano parlato per qualche minuto, poi aveva avvertito una presenza in casa. Lei era salita in camera della bambina, lui era rimasto a controllare le protezioni ed era rientrato nello studio, dove aveva visto le ombre luminose, per risvegliarsi infine in preda ad atroci dolori in ospedale. Il racconto coincideva con le tempistiche della morte di Audrey e con il posizionamento dei corpi, quando la squadra era arrivata a casa loro. Ciò forniva a Harry dei punti fermi molto importanti, il dove e il quando. Secondo Varnos, la magia di sangue che avrebbe fermato i divoratori sarebbe stata massimamente efficace se svolta il più vicino possibile al momento e al luogo del loro arrivo, valeva dire intorno alle tre, e nello studio pentagonale. Quindi Harry doveva trovarsi nello studio, quando Audrey vi fosse scesa, e una volta lì convincerla a eseguire il rituale utilizzando il suo sangue. Non era un gran piano e aveva più falle che altro, ma era il meglio che aveva potuto mettere insieme nel poco tempo a sua disposizione, perciò avrebbe trovato il modo di farlo funzionare. Eh, che ci vuole. Ciao cognata insonne, sono nel tuo studio nel cuore della notte in mezzo ai tuoi libri oscuri perché boh mi gira così. A proposito, ti andrebbe di svolgere questa magia a me totalmente sconosciuta proprio qui e adesso? tieni, fammi un bel taglionetto. Perché? Ma per la scienza, ovvio. Certo, facilissimo, grande piano, Potter. Di sicuro Audrey non si insospettirà e non ti farà il terzo grado per capire tutto. E c'erano pochissimi dubbi che lei avrebbe capito tutto. Se riusciva a sognare l'uroboro attraverso i cicli e se prima le era bastato uno sguardo per intuire che c'era qualcosa di strano in lui. Figuriamoci se non era in grado di mettere insieme i pezzi. Harry, a tavola, lavatevi le mani. Arriviamo. A differenza dello studio che aveva visto per la prima volta quando Audrey era stata legata, la cucina non era una novità assoluta per Harry. La ricordava piccola e ben fornita, con al centro un tavolo largo abbastanza per quattro persone e diverse credenze marroni in cui la padrona di casa teneva, seguendo un ordine noto solo a lei, sia il cibo che molti ingredienti per le pozioni. Prima di sedersi, Harry osservò l'interno di un pensile lasciato aperto. Chissà se Audrey aveva mai accidentalmente preparato dei piatti con la bile di armadillo o le code di scorpione, magari quando c'era Kingsley ospite a cena. So cosa stai pensando, gli sussurrò Percy, prendendogli molli dalle braccia, ma puoi stare tranquillo, ho controllato e non ci sono occhi di tritone nello stufato. «Guarda che ti sento!» esclamò lei in risposta. Una pentola fumante passò sopra le teste dei due uomini per planare dolcemente in mezzo ai piatti posati sul tavolo. Sul seggiolone di molli, invece, comparve un piattino di verdure lesse, che la bambina iniziò subito a divorare con le mani. «Non dargli retta, Harry! Non ho mai confuso una pietanza con una pozione! Finora!» Audrey lanciò a persi un'occhiata di fuoco, che lui ignorò del tutto, mettendosi invece a preparare i piatti. «Spero ti piaccia lo stufato!» disse allora lei a Harry, sedendogli davanti. «Non è come quello di mia suocera, ma credo di cavarmela!» In effetti, era anche meglio di quello che cucinava la signora Weasley, ma Harry si guardò bene dal dirlo ad alta voce. «È buonissimo!» le rispose, dopo un paio di bocconi voraci. Lei lo ringraziò con un sorriso, poi si alcigliò e si rivolse al marito. «Se hai tanta paura che ti avveleni, perché non approfitti delle ferie che ti ha dato il tuo amichetto e non mi sistemi il laboratorio, così ci posso tenere gli ingredienti?» L'opostrofò con una punta di acidità. «Sono due anni che me lo prometti e non lo fai. Magari questa è la volta buona!» Lui sbuffò. «Ferie? Magari! Devo comunque lavorare!» Harry e io abbiamo portato qui quattro borse cariche di passaporte da disinnescare. «E poi sono io quella che schiavizza gli ospiti», commentò lei facendo l'occhialino a Harry. «Perciò non ho il tempo fisico di occuparmi anche del tuo laboratorio. Se hai bisogno di aiuto esiste una soluzione semplicissima, lo sai». Il tono era moderato, ma preludeva chiaramente una discussione. Persi lo confermò, smettendo di mangiare e scoccando uno sguardo esasperato alla moglie. «Oh no!» «Non vorrei dire...» «No, ti prego, non ricominciare con questa storia». «Perché?» «Sai benissimo che è una grande idea!» «No!» «Odry!» «Cos'è una grande idea?» chiese Harry. Parte di lui sapeva che avrebbe dovuto sentirsi imbarazzato ad assistere a un battibecco tra quei due, specie dopo quanto gli aveva confidato Odry, ma la verità era che non gli importava. No, nemmeno questo era giusto. La verità era che non vedeva l'ora. Erano così vivi, loro immolli, così presenti e vicini accanto a lui. Dopo averli persi, quando aveva appena iniziato a considerarli importanti nella sua vita, il minimo che potesse fare era goderseli il più possibile. «Un golem!» risposero contemporaneamente Persi e Odry, il primo con un sospiro, la seconda piena di entusiasmo. «Un fedele servitore tutto fare, nato dall'umile argilla!» continuò lei, trassognata. «L'anno scorso ho partecipato a un workshop tenuto in sala da alcuni colleghi di Praga e...» «E da allora non fa che parlarne!» Persi si passò le mani sul viso. Aveva l'aria di aver affrontato quella conversazione molte volte, eppure Harry avrebbe giurato che c'era un sottile divertimento nella sua voce. «È un mostro di fango senziente, Odry!» «Non fango, argilla, mischiata alla saliva del creatore! Una magia, così elementare che...» «Fango e sputo, senziente, allora! Mi rifiuto di tenere una robaccia del genere attorno a Molly!» «Robaccia! Non esiste creatura più pulita di un golem! Potrebbe diventare pericoloso!» «Stupidaggini! I golem sono del tutto innocui, se realizzati correttamente!» «Se...» «E poi...» Persi raddrizzò la schiena e si sistemò gli occhiali. «La legislazione britannica, in proposito, non è uguale a quella cieca. Qui servono dei permessi apposta per realizzarne uno, per animarlo, per tenerlo in casa, solo se rendiamo pubblica la cosa. Quello che il ministero non sa non può ferirlo. Odry, io sono un funzionario del ministero!» «E allora?» Harry è un Auror e non fa tutte queste storie. «In realtà, l'idea di avere un golem domestico mi sembra ottima», dichiarò lui con convinzione, per il puro gusto di vedere l'espressione piccata di Persi. «Harry, tu straparli! Hai la più vaga idea della burocrazia necessaria anche solo per iniziare il processo di creazione? E ovviamente dovrei occuparmene io. Sarebbe un incubo dall'inizio alla fine!» «Scartoffi è da compilare un incubo? Ti divertiresti come una vergina Beltane!» sbottò Odry facendola arrossire e costringendo Harry a soffocare una risata nello stufato. «Non è questo il punto! E comunque i golem vanno comandati in Yiddish. Tu parli Yiddish, moglie mia? Non importa, Moshi e Pavel ce l'hanno perché io no. Moshi e Pavel possono averlo perché parlano Yiddish. Tu non impareresti a parlare Yiddish nemmeno se inventassero un incantesimo per imparare a parlare Yiddish». Per Godric era così palese che si stessero divertendo da matti a discutere per quella stupidaggine. Harry si domandò come avesse fatto a non capirlo prima, eppure li conosceva da anni. «Puoi sempre impararlo tu, no? Sei tu il nerd delle lingue. Se devo imparare una lingua lo faccio per lavoro, non per scopi personali». «Nemmeno per rimorchiare?» fece Harry incapace di trattenersi. La sua domanda ebbe l'effetto di far sbiancare Percy. Audrey invece lo guardò interessata. «Non...» balbettò lui. «Non capisco cosa c'entri adesso questo con...» «Rispondi all'auror, caro. Cos'è questa storia del rimorchiare?» «Tua figlia si sta infilando una carota nel naso». «Cos...» «Molly, ferma, non si fa!» Udry si girò subito verso la bambina, e Percy ne approfittò per indirizzare un Harry no, silenzioso e terrorizzato al cognato. «Scusa», dimmò lui, reprimendo a stento una risata. Nel frattempo, l'alchimista aveva sistemato Molly e aveva ripreso a mangiare costizia. «Che noia, però non posso mai fare niente. Non posso andare a Ingolstadt a saccheggiare il laboratorio di Victor. Non posso testare le pozioni su Hermes e sul gruppo dei vicini. Non posso crearmi un golem. Allora, Harry, com'è avere un matrimonio normale? Me lo chiedo da sempre e sarei proprio curioso di scoprirlo». «Oh, giusto!» Udry abbandonò il tono petulante e guardò verso di lui. «Come sta, Ginny?» Percy mi ha detto che l'ha trovata meglio. «Sì, sta molto meglio», Harry ripensò allo sguardo che gli aveva rivolto quando si erano salutati a Grimall Place. «Credo stia per rimettersi del tutto. È praticamente quella di prima, anche per come ha reagito alla situazione». Lei sorrise di cuore. «Meno male. Se vuoi farla stare più tranquilla, dille che questo pomeriggio i nostri occultisti hanno svolto i rituali protettivi. Saremo coperti per almeno due settimane». «Già fatto?» Percy sembrava stupito. «Kings li vi ha già contattati?» «Oh, e come! Ha scritto una lettera oltraggiosa. Ha praticamente ordinato al Magistero di attivarsi entro oggi, senza sé e senza ma. Viridios era furioso. Continuava a dire che non si deve permettere di trattarci come fossimo roba sua». «Ehi, tutto bene?» Harry si riscosse, realizzando di avere la bocca spalancata. L'accenno a Kingsley gli aveva fatto tornare in mente una frase che il ministro aveva detto il giorno in cui erano andati a parlargli. «Ieri», si corresse. «Oh, sì sì, tutto bene», si schiarì la voce. «Quindi avete svolto i rituali di sangue?» Il viso di Audrey si incubì. «I... cosa?» domandò. «Rituali di sangue?» Kingsley li ha chiamati così». «Certo». Lei non poteva ricordarselo, perché l'intera giornata precedente era stata cancellata dalla sua memoria, ma Shekelbolt all'inizio aveva rifiutato di chiedere aiuto alla loggia, perché non voleva compissero rituali di sangue, il che suonava terribilmente simile a Magia di Sangue. E se Harry fosse riuscito a... «Gli ha chiamati così? Quando?» «Quando siamo andati a parlargli ieri insieme a Ermione», rispose in fretta Percy. «Tutti stavi ancora riprendendo da...» «Oh, giusto», Audrey sbuffò e scosse la testa. «Figuriamoci, solo un ignorante come Kingsley può pensare che usiamo la Magia di Sangue per i nostri rituali protettivi». «Oh, Merlino, grazie. Grazie, grazie, grazie». «Perfetto. Se avesse preso ora il discorso sulla Magia di Sangue, dopo sarebbe stato più facile suggerire a Audrey di svolgerne una». «Ah, sono due cose diverse?» mise i gomiti sul tavolo e si protesi in avanti, fingendo interesse. «Che differenza c'è?» «Dunque, in generale, la Magia di Sangue è quella che sfrutta i poteri del sangue umano o animale per canalizzare determinate forze, o incrementare l'effetto di un'altra magia», attaccò subito a spiegare lei, qui sui classici modi calmi da insegnante. «Per estensione, vengono chiamate Magie di Sangue tutti i rituali alchemici e occulti in cui essa viene usata. Però è raro che si tratti di rituali protettivi». «Perché?» «Perché, salvo poche felici eccezioni», accennò con la testa verso Harry, «il potere protettivo del sangue è limitato nel tempo e nella direzione. Deve esserci un legame tra protettore e protetto. Inoltre, gli effetti non durano a lungo quanto si vorrebbe. Se avessimo usato il sangue della loggia per tutte le possibili vittime del nostro evocatore, ne avremmo coperte solo tre o quattro, e solo per due giorni». «Perciò, se uno volesse stendere la propria protezione su qualcuno con cui ha un legame, potrebbe svolgere un rituale con la Magia di Sangue, giusto?» «Sì, ma come ho detto, allora potremmo farne uno per Molly». Odry sembrò gelarsi a quella domanda, come anche Percy. I due divennero seri e si scambiarono una lunga occhiata silenziosa. «Mh, no, non penso sia una buona idea», rispose poi lei. «Perché no? Anche se dura poco, sarebbe una... No!» Il tono secco e deciso lasciò Harry interdetto. «Non pratico la Magia di Sangue», continuò Odry, con una sbrigativa freddezza che strideva con la giovialità di poco prima. Perplesso, Lauror guardò verso Percy, ma lui teneva lo sguardo puntato sul piatto vuoto, quasi volesse evitare di essere coinvolto nel discorso. «Perché? Non è Magia Oscura, giusto?» tentò allora. «Non di per sé, dipende dall'uso che se ne fa», Odry strinse i denti e guardò altrove. «Ma io non la pratico in nessun caso». «E perché? Hai ancora fame, Harry? Posso prepararti qualcos'altro, se vuoi?» Il sorriso tirato e il cambio repentino di argomento la dicevano lunga sul nervosismo dell'alchimista. L'atmosfera conviviale si era spenta di colpo, risucchiata via da... Cosa? Quale diavolo era il problema con la Magia di Sangue?» «Quale era capace di parlare in lungo e largo di arti oscure e nefandezze indicibili senza batter ciglio, e ora si bloccava davanti alla semplice ipotesi di un rituale protettivo?» «E in nome di Merlino, perché l'unica possibile salvezza per Odry e Molly doveva passare per l'unico tipo di magia che scatenava quel rifiuto ad un'unica persona che poteva compierla?» Harry avrebbe potuto insistere, certo, chiedere maggiori spiegazioni, far sì che l'argomento non venisse lasciato cadere tanto facilmente. Alla fine, però, ci rinunciò. Non voleva rischiare di aumentare l'ostilità di sua cognata, e comunque l'importante era averne parlato. Più tardi, nello studio, avrebbe ripreso il discorso e trovato il modo, qualsiasi modo, di farle cambiare parere. Si sarebbe inventato qualcosa. Doveva inventarsi qualcosa. «Com'era quella storia sulla fatica? Che ci fa apprezzare di più i nostri risultati? Varnos del cazzo!» Sospirò e stirò a sua volta le labbra in un sorriso. «No, grazie, sono a posto», si schiarì la gola. «Ho visto che Molly riesce quasi a tenersi in piedi. Ha cominciato da molto?» Il cambio di discorso ebbe l'effetto di rischiarare il volto di Odry e far rialzare il capo a Persi. Nel giro di due minuti, Harry fu reso edotto di tutti i progressi che la piccola aveva fatto negli ultimi mesi. Minuscoli segnali di crescita che riempivano i due genitori di orgoglio e gioia. Ciò lo portò a parlare di James, delle differenze che aveva riscontrato con Molly, e lo spinse addirittura a chiedere consigli su come affrontare i cambiamenti che lo aspettavano da lì in avanti, non disprezzando per una volta il parere di suo cognato in proposito. Fu questi a notare, una mezz'ora dopo, i primi segni di stanchezza della bimba, che per tutto il tempo aveva partecipato coi suoi balbetti e entusiasti, e ora si strofinava gli occhi infastidita. Ci penso io, disse alzandosi in piedi. Mostri tu a Harry le protezioni? Certo, amore, a dopo. Odry seguì Persi e Molly con lo sguardo mentre uscivano dalla cucina, diretti al piano superiore. Allora, Potter, disse poi, mandando i piatti a pulirsi da soli nel lavello, serviva un pluri omicida per farti venire a cena da noi? Per la seconda volta nella serata, Harry avampò. Provò a far fogliare una risposta, ma lei lo fermò con una risatina e un gesto della mano. Tranquillo, ti prendo in giro. Però sono contenta che tu sia venuto nonostante le circostanze. Appoggiò i gomiti sul tavolo e si strinse nelle spalle. Raramente abbiamo ospiti qui, a parte i nostri genitori e quell'asticello nel culo che è Kingsley. Mi dispiace, sarei dovuto venire a trovarvi molto tempo fa. Non è mai troppo tardi, guardò dietro di sé, verso uno dei pensili. Ehi, il mio confratello Taliesin fa l'idromele in casa. Ti va di assaggiarlo? Non so se dovrei bere, sono in servizio. Giuro di non dirlo a nessuno. Odry si segnò fronte, bocca e cuore, prima di evocare due bicchieri e appellare la bottiglia dal pensile. Allora, Potter... Harry ridacchiò. Un tempo mi chiamavi Potter solo quando eri arrabbiata con me, e ora sono già due volte di fila. Che vuoi, Bennet? Lei attese di aver riempito i bicchieri prima di parlare. Volevo sapere se ci sono novità, tutto qui. Persi non mi dice mai niente del caso. Credo mi stia punendo per... Beh, lo sai. Strinse le labbra a Rossi. Essermi presentata fatta al ministero per poi collassare davanti a tutti. Harry accettò il bicchiere e l'annusò. Cazzo se era forte. Non preoccuparti, la tua spiegazione è stata comunque ottima. Hermione era molto colpita. Davvero? Ha detto che sei stata impeccabile. Quando hai parlato davanti a Kingsley, sobria e con l'uniforme della loggia alchemica. Ma facciamo finta che valga comunque. Vide Odri arrossire ancora di più e chinare il capo. Diamine, in quel momento aveva la stessa espressione imbarazzata di Persi. Detto da lei è un grosso complimento, considerato... Beh, che non sono la sua persona preferita al mondo. Scosse la testa. Quindi? Scoperto qualcosa di nuovo? Harry se la prese comoda prima di rispondere. Alzò il bicchiere e beve un lungo sorso di idromele. Sulla lingua era dolce e frizzante. Ma dopo qualche secondo la botta alcolica gli arrivò dritta nella gola e lo costrinse a tossire. Non! Sputacchiò e si schiarì la voce. Non ci sono grandi novità, a dire il vero. Oh! E che avete fatto stasera, allora? Abbiamo riguardato da capo i fascicoli, per controllare se potevamo unire qualche pezzo con quello che ci hai detto tu. E non avete trovato proprio niente? Scosse la testa. Forse un paio di idee, ma nulla di concreto. Mmm. Audrey lo scrutò con la stessa attenzione che gli aveva dedicato prima, ed istinto Harry abbassò gli occhi. Era quasi certo che la sua amica non fosse una legilimens, ma con gli alchimisti non si sapeva mai. Se dovessi scoprire qualcosa, me lo dirai? Chiese lei, infine. Voglio solo sapere quanto devo preoccuparmi per Molly. Ah! Se solo avesse potuto dirle tutto quello che aveva scoperto negli ultimi giorni, dirle che erano finiti in un casino temporale, che lei e sua figlia erano in pericolo, che aveva bisogno del suo aiuto per porre fine a quell'incredibile vicenda, sarebbe stato così facile risolvere quel caso, se soltanto avesse potuto parlarne con lei. Ma aveva fatto un giuramento ai divoratori, e peggio ancora, aveva ricevuto un monito da Varnos. Se le creature l'avessero sentito dire la verità a qualcuno, avrebbero ucciso tutti i bambini, il che, realizzò con un brivido, presupponeva che fossero sempre nei suoi paraggi, e sempre in ascolto. E se non le dico la verità, rischio di non riuscire a salvarla. Situazione del cazzo. Perché sempre a me? Se dovesse saltar fuori qualcosa, sarai la prima a saperlo, mentì con un sorriso. E non devi preoccuparti per Molly, ci sono qua io. Udry sollevò le sopracciglia. Se non funzionano i rituali protettivi e i marchi che ho apposto io stessa, temo che tu non possa fare proprio nulla. Ma ti ringrazio per la tua premura, rispose asciutta, prima di bere il suo idromele tutto ad un fiato. Senti, scusa se ho reagito male prima. Reagito al discorso sulla magia di sangue. Noi non ci piace parlarne, tutto qui. Serò i denti e guardò altrove, come aveva fatto prima. Spero di non averti offeso. Non l'hai fatto, tranquilla. Bevero dell'altro idromele, ciascuno perso nei suoi pensieri. Quelli di Harry giravano tutti attorno al suo piano raffazzonato, ai mille modi in cui poteva andare storto, e al fatto che quella situazione gli ricordava una partita a scacchi. E lui era sempre stato una merda a scacchi. Possibile che non esistesse una soluzione alternativa al tenere tutto nascosto e sperare che le cose andassero per il meglio? Se solo avesse fatto capire all'alchimista che doveva ricorrere a quel tipo di magia e usare il suo sangue, ma non poteva certo dirglielo. O no? In fondo, in fondo, Audrey era riuscita a comunicargli parte della soluzione al caso mentre era legata, no? Aveva trovato il sistema di aggirare la maledizione e dargli un indizio, per quanto piccolo. Non avrebbe potuto fare lo stesso anche lui, suggerendole qualcosa, in modo non troppo esplicito. Ma come suggerire l'esistenza di creature extradimensionale capaci di modulare lo scorrere del tempo e asservite a un pazzo criminale? Però aspetta. Aspetta. Come ha detto il divoratore, la sua mente è aperta. Beh, Audrey sospirò e si alzò in piedi. Non so te, ma io sono un po' stanca, quindi ora ti mostro dove sono le protezioni e poi ti preparo il divano. Non abbiamo la stanza degli ospiti, però... Aspetta! Hm? Harry deglutì. La sua memoria? Era in grado di ricordare l'oruboro attraverso i cicli. Cosa sarebbe successo se avesse provato a forzarla un po'? «Posso farti una domanda», fece in tono casuale. «Ho una curiosità e non so che altro chiedere». Audrey tornò a sedersi e si protese verso di lui. «Ma certo, dimmi pure». «Ecco». «Per caso», deglutì di nuovo. «Merlino, fa che i divoratori non uccidano mio figlio solo per questo». «Per caso sai cosa significa edax rerum?» La vide sbattere le palpebre più volte, perplessa, per poi spalancare gli occhi e la bocca. Harry sentì il proprio cuore sobbalzare e per un breve istante si illuse di aver avuto l'idea giusta, ma lei lo stupì con l'ultima domanda che si sarebbe aspettato di udire. «Ti stai dando i classici della letteratura babbana?» chiese infatti, con un sorrisetto dei suoi. Toccò a lui sbattere le palpebre. «In che senso?» Lei ridacchiò e iniziò a recitare. «Tempus edax rerum, tuco invidiosa vetustas, omnia destruitis, viziatacque, dentibus aevi, eccetera, eccetera. Non ho più la memoria di una volta». Rise più forte, forse nel vedere l'espressione persa di Harry. «E' un verso delle metamorfosi di Ovidio, si riferisce al tempo che divora ogni cosa con suo scorrere. Ci si è anche ispirato Shakespeare per un sonetto, il diciannove, se non ricordo male. «Da dove l'hai pescato?» Fu molto difficile reprimere la delusione. «Io non saprei, mi gira nella testa da un po', forse l'ho letto su una lapide. Un po' inquietante come pitaffio. Il giorno lontano in cui toccherà a me, ti prego, fai in modo che scrivano una frase sconcia sulla mia tomba?» Sorrise, ma un istante dopo aggrottò le sopracciglia. «Sai...» «No, niente». «Cosa?» «Nulla, solo un déjà vu. Colpa della stanchezza». Agitò una mano e si rialzò. «Andiamo, dai!» Harry la seguì in giro per casa, ascoltando con un orecchio solo i suoi discorsi sui marchi, sulle virtù delle stanze pentagonali e sull'impossibilità di smaterializzarsi al piano di sopra. Udry gli preparò il divano sempre chiacchierando, gli disse che se si annoiava poteva prendere tutti i libri che voleva, ma non quelli sulla seconda libreria terzo scaffale, a quelli non piace essere toccati e fu soltanto quando lei gli augurò la buonanotte e fece per ritirarsi che Harry si ricordò di doverle consegnare un messaggio. «Ehi, Udry!» Era già a metà scale verso la cameretta di Molly. «Sì?» «Romy ha detto di riferirti queste parole. «C3». «C3»? «Ha detto che tu sai cosa significa?» Lei strinse gli occhi e grugnì. «Certo che lo so, per Crowley. Pedone in C3, apertura a Saragozza!» Sbuffò e si passò le mani sul viso. «Perché me lo hai detto? Ora resterò sveglio a pensare a come rispondere. Sarà una notte lunghissima, cazzo!» E se ne andò mugugnando, lasciandolo solo nel salotto con le sue preoccupazioni. «Lunghissima? Magari! In un modo o nell'altro sarebbe stata la notte più breve della vita di Harry. Tanto valeva prendersi un libro da leggere». «Lunghissima» 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 Grazie a tutti